A due anni dall'inizio dei lavori è stato inaugurato a Cesene il Tecnopolo dedicato alla ricerca in campo agroalimentare. A fianco a Villa Melici, sede del campus universitario di scienze e degli alimenti, sorge così il nuovo edificio di 1160 metri quadrati, con laboratori che studiano nuovi prodotti alimentari e collaborano con le maggiori aziende italiane del settore. Il Polo è sede del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare e ICT. L'investimento, pari a 2.860.000 euro, è stato finanziato per 2 milioni dalla regione grazie ai fondi dell'Unione Europea. La parte restante è stata coperta dal Comune di Cesena. Diciamo che è un altro passo verso il radicamento dell'Università di Bologna, dell'Alma Mater, nel nostro territorio, in particolare a Cesena. E' particolarmente importante perché rappresenta un insediamento strutturato nell'ambito dell'attività di ricerca, in particolare nell'agroalimentare che è un settore estremamente importante per l'Italia e per la regione Emilia-Romagna e dove noi abbiamo dei gruppi di ricerca che sono assolutamente competitivi a livello europeo. Io credo che la rete dei tecnopoli ad alta tecnologia sia indispensabile per una regione che vuole competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo. Ha bisogno di mettere in collegamento sempre di più il suo sistema di imprese imprenditoriale con le università, i laboratori e i centri di ricerca. E' l'unico modo per tenere alta la qualità di ciò che si produce, che se stiamo al campo alimentare è qualcosa in questa regione di formidabile.